Stava iniziato il video, adesso uccido anche sto robo E salve salve a tutti ragazzi, mi chiamo Luigi e ben tornati in questo nuovissimo video C'è un lama che sta morendo, come state bene? Bene spero pane, panissimo spero Oggi sono in compagnia con i signori Kules, Anthony e GX Mattias Che sono da tutta altra parte del mondo E oggi io pensavo di iniziare a costruire le mura Però appunto ci saranno anche loro due che invece costruiranno il loro villaggio E andremo a fargli visita Ma prima di iniziare, come sempre, io vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanella in linea, le notifiche Lasciare un bel commento caldo con l'hashtag del giorno che avrà sempre detto a fine video E mi raccomando fate iscrivervi al mio canale YouTube, anche i vostri amici E niente, noi possiamo iniziare con questo video, ma prima sigla Ok eccoci qua, Mattias deve dire una cosa Muoviti Allora, Luigi aveva fatto una live una volta, prima che io potessi entrare qui E aveva messo un cartello Con Mattias è stato qui Adesso se ne fa un'altra posso dire che sono veramente stato qui E ho visto il suo mondo Hai ragione L'ha appena fatto vedere Ok, io dovrei andare a prendere i materiali Voi invece che dovete fare? Eh, ci pensiamo No, come Antonio deve andare? Mannaggia Ma perché? Non so, però posso stare sempre in casa Stai chiamato allo stesso Però gioco Dragon Ball Legends o Nulz Ok No, Luigi Antonio, vieni, dobbiamo fare una cosa No, non posso Scusa, hai finito le due ore Sì Oh no Vabbè, allora ci vediamo tra due ore Ci vediamo Vabbè, ci stai Stai sempre chiamata Sì Ci vediamo appena riesco E poi ci ho perso le due ore Ok, presi i materiali Mattias è con me Antonio è andato Sono ancora qui presente Tra l'altro qua Sto facendo Un deposito D'oro Ecco, invece c'è Qua tipo Sto facendo un deposito Ho fatto Quello in oro Non chiedetemi come faccio A dovere tanto oro Perché non lo so nemmeno Anche io Ok Dobbiamo scegliere un punto Adesso te lo do Mattias si unisce Alla partita Ok, sì Ero trasciato Adesso vado a vedere Mattias Io sono al villaggio Ok, allora Facciamo così Prima Hai detto fortuna Sì Aspetta Ne cerco solo uno Con chi abbia solo fortuna Perché me ne servono altri Anche a me Dove però Non c'è solo fortuna Ecco Partendo Un pezzo di chiaia Ok Sì 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 Se No 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 Il Riggi mi basta un piccone con un fortuna 3 Ah il piccone non ce l'ho E hai anche una parte Una 3 Eh vabbè chiedi un po' troppo zi E' un ruppere della ghiaglia Poi te la ridò Mi stai facendo la ghiaglia Vabbè Deve l'aspetta Aio Mannaggia Ehm Dov'è Mi hai detto una palla E un libro fortuna 3 Una palla e un libro Ok E vengo ad andare quando ho finito il Cosa Il muro Ok adesso Prendiamo anche Questi qua che sono gli standardi Scherzavo No vabbè chi se ne è La notte non ci fermerà Ma Mattias Fermerà la notte però a noi no Ok Allora Casa? E' un po' il cavallo che è morto E' un po' il cavallo E' un po' il cavallo Che Antonio adesso c'è un cavallo Loro sono fatti tipo Due giorni fa Io gli ho lasciato un robot con Una Una cassa con Un po' di oggetti E loro sono fatti la loro zona Dopo a venire il villaggio Arrivo Prima faccio Il muro E poi faccio vedere E poi faccio vedere Agli iscritti Il villaggio Ok allora Il nostro villaggio Perché anche io ho un villaggio Dovrebbe essere Qua Ok Eccolo qua Bene io direi di iniziare A farlo tipo Qua Dovremmo anche un po' Togliere la vegetazione Questo ci Lo faremo un'altra volta Ok Ok Andiamo un po' Di piante Ok Fatemi recuperare il video Che avevo fatto tempo fa Ok Ok Ci sono Allora L'unica cosa Che vorrei E che la vorrei fare Un po' più massiccia Quindi Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Allora Uno Tre Un po' Penso Spero Uno Due Tre Quattro Cinque No Quasi vero giusti Vabbè Qui Mi ricordo che dovevamo anche mettere il banner Ok Così Eccolo Sta già venendo fuori Il problema è farla massiccia Come potremmo fare Allora Tipo Che ne so Allora Forse questo video Durerà Forse questo video durerà Qui ci dovremmo mettere negli anni Per fare La sorra Ok Allora Ho trovato il modo E poi qua Lo facciamo E poi qua Cioè Lo facciamo Cancelare Quella che ho detta Non mi raccomando Non penso a male Non penso a male No Più E più sopra Cioè Devo vedere Se è giusto Però In teoria In teoria Si Ok Si è giusta È giusta Ok Bene Ci abbiamo fatta Poi qua Col tempo La circonderò Cioè Tipo La farò Così No No Quindi un blocco Aio Ok Bene Così Mannaggia Non mi sono portato La pala E Una pala Vabbè Ok In teoria Si Dovrebbe andare In teoria Si Meglio se poi Gli standardi Li mettiamo Non li mettiamo Così tanti Perché non ce li abbiamo Ok E niente Adesso praticamente Sarà Un ciclo Continuo Un loop Come il loop Di fortnite Ok Mi si è rotta la pala Non mi permetto Devo andare a farne un'altra Bravo Ok Ok Le vie Le ho detto che La bi Ah Sono caduto Oh toio Le ho detto che Bisogna rimuovere la vegetazione Ok Ok Ecco qua Direi di finire I blocchi Tipo i blocchi di legno E poi Di andare Verso Il villaggio Di Antonio E Mattias Oh Sti alberi Ok Mura Come vedete Saranno molto grandi Molto larghe Poi Le possiamo Le potremo anche Migliorare Una volta che Avremo finito Ok Bene Poi potremo fare Invece di usare Gli standardi Dei pillagero Potremmo usare Quelli Che Quelli Ecco Quelli che Abbiamo Usato Per Tipo Le tende Della nostra Casa Potremmo Fa così Bene Andiamo Adesso Al villaggio Veniamo Da te Mattias Da bene Io sto Prendendo Della sabbia Però Se non mi vedete Perché sto Prendendo Della sabbia Oh no Eh già 12 minuti Di video Com'è possibile Già 12 minuti Di video Il bello Che io Sono Il bello È che Un'altra Il bello È che io Faccio una costruzione Tipo da 4 minuti Però In video Da fine Vanno Durano 10 12 minuti Non so Perché Diciamo Che potrei Essere Un hacker No scherzo Uso Le hack Uso le hack Hai ragione Uso le hack Nella vita Reale Uso le hack Nella vita Reale Per allungare Il video No no Non lo so In verità Perché No no Tu prendi Spungo Dalle Life È vero Magari Un giorno Possiamo Anche fare Un'esplorazione Insieme Anche Delle challenge Insieme Tipo che ne so Potremmo fare Anche tipo Le bad wars Le bad wars Sono quelle Che voglio Fare Di più Bravo Ok Il villaggio Si trova Tipo qua Mentre qua Invece Faremo Il centro No 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 Bravo Questo fa capire Che Che Antonio È una Persona È Una persona Di cui ci si può fidare No Cosa Che non è vero Non scherzo Eccolo Questo è tipo La casa Barra Villaggio Di Antonio E Mattias Sono Sono A terzo Giorno In cui Fanno Ah è vero Che ho messo Questo cartello Qui ci sono Tutte anche Le ricchezze C'è La casa Di Antonio No no Tranquillo Tranquillo Ti fa vedere Il Regalo di Mattias Qui qua ci sono Anche altre robe Ok Invece La casa Di Mattias È da questo lato Scusa Se ti ho preso La cobblast Praticamente Poi loro Sui fondi Sono fatti Gli stessi Regali Tanto Mattias Sta cucinando Il ferro Cosa devi fare Mattias Interessante Poi qua Antonio Ha fatto anche Una piscina Che io Ho ghiacciato Per sbaglio Poi qua Per il resto È Tutto normale C'è la Campana E E poi alla fine Eccolo Mattias Mattias Salve 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 Eh vieni Vieni Ancora Salve 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 Non volevo Ah lui Ha il L'inventario Che Cioè anche se muore Tipo non può E niente Qua Poi hanno fatto Un hotel Che è in evoluzione Sì Ma sopra Ci avete fatto qualcosa Cosa Ah non lo so Dobbiamo Dipende Da che intenzione ha Antonio Io gli sto dando Da mano Però dipende Che intenzione ha Di farlo Modificherò Modificherò A breve Modificherò Anche la piscina Dopo Ovviamente Dopo L'hotel Ok Voglio vedere Ah non c'è niente Per ora Ok Bene Ragazzi Il video Purtroppo È dura È arrivato Al termine 16 minuti Probabilmente Anche di più E niente Spero che Questo Piccolo video Sull'inizio Delle mura Vi sia piaciuto Magari anche Una rinfrescata Se tipo Volete Prenderle Per La vostra vanilla Per fare il vostro Villaggio O tipo Anche per il Per fare tipo Il mura Del vostro Villaggio Antonio Mattias E Niente Qui c'è anche Il cavallo Di Antonio Che ruberò Adesso E niente Ragazzi Noi ci vediamo Con Caspita Veramente Veloce E niente Noi ci vediamo Con un nuovissimo Mi video La domenica Una nuovissima Stories Mercoledì Io E Mattias Adesso Faremo ancora Un po' Di progressi E Niente Ci vediamo Alla prossima Ciao E l'hashtag Del giorno È hashtag Hashtag Mattias Va a raccogliere La sabbia Eh oh è vero Ma stai zitto Hashtag Mattias Va a raccogliere La sabbia Se lo mettete Vi metto Il cuoricino Se mettete Quell'altro Vi mando A casa Antonio Alla prossima Bene Alla prossima Ciao Non hai detto Quella cosa lì Sulla skin Ah è vero Mattia Sono nuova skin Magari Nella prossima Live Di minecraft Probabilmente La faremo In estate Vi farò vedere La sua nuova Skin E niente Detto questo Ci vediamo Al prossima Al prossima Quella di Quella di Di Alex Perché appunto Non voleva farla vedere Adesso E niente Ok Avete sentito Mattias Comunque arriviamo A 10 5 Mi piace E niente Noi ci vediamo In un nuovissimo video E un saluto Da Dal cavallo Di Antonio Da Antonio Da Mattias E da questo Maiale E niente Ci vediamo Al prossimo Al prossimo video Ciao Alla prossima Ciao Ciao Grazie per aver ucciso Mattia No scherzo No 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 Alla prossima